Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Civi in questo nuovo video di Vodalata. Bene, continuiamo pure da dove eravamo rimasti, siamo arrivati finalmente dal futuro marito del nostro caro amico Hammerlock e vediamo che succede, perché c'è una ruola di mistero che lo circonda, vediamo un po'. Cacciatore, arrivi al momento giusto. Sono nervoso come l'ultimo porco rimasto al mattatoio. La location del matrimonio deve essere perfetta per Alistair. Quella pila atomica di la Wedding Planner mi ha fatto vedere la brochure, ma voglio fare un sopralluogo. Per l'inferno il cancello è chiuso. Devo vedere di persona l'ostalotta e non riuscirò a chiudere occhio. Forse c'è un altro ingresso, seguimi. A questa velocità? Per fidare del tuo giudizio, cacciatore. Rispondi sinceramente. C'è qualcosa che ti spaventa? Io temo solo una cosa, il mio personal trainer, quando devo allenare le gambe. Sono tutte paure perfettamente ragionevoli, ma nascono dal mondo reale. Le mie sono meno tangibili. Alistair ha il cuore di un avventuriero. Un temeraglio, direbbe lui. Il tipo che scala montagne e doma bestie selvagge, ma una vita simile non fa per me. A volte penso che preferirebbe stare con qualcuno di più sventato. Qualcuno che lo faccia divertire. Non stare ad ascoltarmi. Muoviamoci. C'era da bussare. Che cazzo lo sapeva? Oh, salve. Però. Posso vedere? C'è da bussare qui? Ok, non c'è da bussare. E chissà dove cazzo sarà quello... Salve. Come va? Io? Io sto... Sto bene. È solo che, ecco, se sento una parola in particolare mi irrigidisco tutto e cado. Ah, beh. E quindi fai pure quello che vuoi, ma non dire quella parola. Non mi hai detto che parola è, però. Esatto. Ed è meglio così. Per sicurezza, ecco. Ah, certo. Ah, ah. Ok, non mi trattengo. E forse... per Vinca. Ma che cazzo? Ops! Al primo colpo. Ma che cazzo? Vabbè. Boh, a me sembra una bella violazione di domicilio. Non stiamo violando niente. Stiamo solo entrando. E poi ho già pagato la caparra. Che ci provino a tenermi fuori? Ok. Tutto claro, stranamente. Io intanto, insomma, farei, insomma... Sì. Chiaro, no? Ho fatto il tagliano e ci siamo messi. Eccoci qua. Guarda mia, se la corre. Ma che caverna è questa? Un'infestazione. Spero che il locale sia in condizioni migliori. Guarda un po' cosa abbiamo qui. Ho visto, ho visto. È una cosa molto bella. Ok, adesso... Si, pompa, pompa. Beh, mi sembra una cosa ecua, no? Ma se provassi... No, questo, questo... Oh, beh, ci siamo... Abbiamo tutto il giorno, probabilmente è anche buona come arma. Oh, poca vacca. Oh, devo andarmi, ma se proprio devo. Ah, beh, se proprio devi. Chi è? Oh, cazzo. Oh, poca vacca. Cioè, questo è un pull, proprio. Tira il piattello. Salve. Cioè, è divertente, eh? Perché hai tappo, insomma, sì. E' 17, è una cosa abbastanza decente. Ok. Calma, calma, arrivo, signoro, eh. Mi dì un attico. Vedete se c'è qualcosa. Ok, un po' di vita. Non c'è nient'altro? Ok. Che rumore è? Vediamo, forse riesco... Ma, chi voglio prendere in giro? Questa è quella che chiamo violazione. Era roba vecchia, comunque. Ok. L'hai sentito anche tu? Per mille paludi cosa sta succedendo lì dentro? Già. Il cuore batte ancora. Il cuore sanguina ancora. Il cuore batte ancora. Il cuore sanguina ancora. C'è qualcosa che non va, cacciatore. Mi offro nuovamente a te, mia amata Eleanor. E io a te, Vincent, adorato. Il rinnovamento di Gityan è anche il nostro. Noi, amore mio, siamo eterni. I nostri problemi si infrangeranno come onde sugli scogli. Qualunque cosa osi ostacolarci, noi la batteremo. Chiunque osi frapporsi tra noi, noi l'annichileremo. Ti amo, Eleanor. Ti amo, Vincent. Noi siamo eterni. Sembra quasi di essere a un matrimonio. Spero non si offendano, se diamo un'occhiata. Chiusa. Che sia il caso di forzare anche questa? Che ne dici, cacciatore? E tutto ciò è molto inquietante. E' un eufemismo, ovviamente. Io sono molto curioso di vedere che cazzo è successo. Ok, c'è un salve. Qui non si può aprire, vero? Due a due. Gityan si nutre e il nostro vincolo è rinnovato. Stanno gettando dei poveracci in quel pozzo. Ehi, razza di cotardi intunicati! Giù le mani da quegli innocenti! Che succede? Guarda, tesoro. Abbiamo ospiti. Giocheremo con loro dopo il rinnovamento, mio adorato. Ascoltatemi, vincolati! Liberatrici di questi fermi! Vinculati? Oh, porca vacca! Salve, è molto bello, sa? Mi scusi, sa? Potremmo morire in un attimo? Ero contro la tua fine! Ritiro tutto! Non ho mai creduto in Gityan! Fermata da questa infima creatura! Ok. È un bel casino, eh? Caetà, è divertente. Davvero? Faccio boi, deve essere fresco. Ecco, è ok. Vediamo un po' se c'è altro. Io sto prendendo, però alla fine non so che cazzo sto prendendo, perché non c'è niente. Ah, hai appena fatto un bruttissimo errore. Eh già. Eh, mi spiace. E niente. Porca vacca! Ah, ok, glielo dirò appena posso. Perché sono scudi, presumo. Headshot? Sì, da più o meno. Beh, è un bel... Che. Vediamo un po' se diciamo... Ah, ma sai tutti quanti! No, no, e che io non ti nascondo? Che ti ammazzo? Per me? Perché per me? Ma cosa mi dici mai? Non c'è più tenatico, va. Sì, sì, eccolo qui, devastante incendio. La mia anima è eterna. Ah, beh. Che cosa carina, insomma, da dirsi. Ok. Ma adesso... Non ti faccio una gran figura! Oh, porca vacca! Ci hanno preso un colpo. Altri? Ce n'è uno laggiù. Adesso io ci vado. Ma che cazzo spara questo? Deve essere qua. Te ne pentirai! Ah, sì, sì. Ehi, razza di profetucoli di bassa lega! Perché non venite voi a combattere? I vostri amichetti in costume non sono abbastati! Ma guarda un po', tesoro mio. I vermi sanno combattere, pare. Hai ragione, amore. Ed è tanto che non ci divertiamo un po'. Quanto è vero, tesoro. Forse questo ricettacolo ha ancora un po' di forze rimaste. Che ne dite, vedi? Giochiamo? Oh, porca troia! Spezzo a metà come un ramo scegno o un coro pallido. Non puoi spezzare ciò che è eterno. Vi taglierò quella testa blasfera. Noi sia eterni! Oh, lo sentite anche voi? Sei proprio una... Inferabile creatura! Insomma, quello che dovevo dire... Lo scusate! Di soldi di un riparone! Non me lo faccio! Dite agli altri che ho detto qualcosa di figo e minaccio! Non mezzo, ma tu usciai! Guarda che ragione! Guarda, la vera forma del potere! Osi metterti tra me e mio amore? Mi sto di... Il cuore batte ancora! Le gane è shot, devo dire. Grazie! Oh, cazzo! Non ho mai visto niente del... Un nuovo ricettacolo? Sì! Sei davvero perfetto! Ma cosa diavolo? Riesco a vedere i tuoi timori, Wainwright. Io ti curerò. E ti renderò un uomo nuovo! Giù le mani dallo sporo! Lascialo stare! Oh, vieni malui e già mio! Oh, vediamo un po' Non è che c'è dato della gran roba Ok, scusate? Ok Vediamo un po' Se C'è un caso Andiamo pure dalla nostra amica Beh, non è stato difficile Tutti in faccia Quasi tutti in faccia gli ho tirati Eccoci qua Sabe È stato interessante, diciamo Veramente bello Ok Vediamo un po' Ah, scusciatoie Ah no, invece Qui non si va Non sembrerebbe però Qui Io prendo Sì Arriva, signorina È un attico show Insomma Conte state nuove O le avevamo fatte prima Non me ne ricordo Mamma mia La vecchia No, no È possibile Il figurifero L'avrei visto Dai Ok Perfettico Vai Vai, vai Grazie Molto gentilo Ok Perfetto Pulichette Che cosa carina Che ha detto Ok Quindi è immortalo Riparami O possente oggetto Inanimato Chi è? No Ok Davvero? Se lo voglio Infatti La tua morte Ma Sì Fammi Viene Sposire da paga Ok Tutta la roba Già presa Già tutto rispondato Sono contento Non è che ci serva Salve Scusate Stavo Quell'anduato Ma C'è tante Porca Di quella vacca Non mi piace Quello che ho visto Ma quanta cazzo Di vita Ciao I miei pugni Sono pronti Ok Qualunque forma Assumerai La morte Ti prenderà lo stesso Grandi Di pallottole Tempesta Ancciario Quello è fatto Direi che è andato Tutti E questa forse La fine Ma forca vacca Sì Ritiro tutto Non ho mai più Tu Puoi Inghedian Presto Tornate alla loggia La sarà il sicuro Oh ma per quanto Mi chiedo Rivedrò molto presto Il mio amato Però Non è andata male Dai Divertente Quello sì Devo andare di qua Ci andiamo Molto bello Molto action Questo Questo pezzo Mi è piaciuto Andiamo alla loggia Non è andata male Che questa pistola Super veloce Sennò insomma Sempre stata divertente Ok Di qua Scusate ma Devo ancora prendere Un po' la mano Oh ma c'è tanta 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 roba Cioè Non ci si può Certo annoiare Sto capitolo Ok Altra roba La venderei Un po' di roba Perché l'abbiamo presa Se ti piace vivere Ah beh Mi sembra Che sia giusto Quello che ha detto Nisham Ok Andiamo via Questo Questo Sto pensando Penso Penso e credo Che questo Lo possiamo togliere Dici Siamo proprio La stessa cosa Proprio Ma portavate Ah che sto morendo Cioè proprio Appena prima di morire Vengo Ok Eh sì Mi sa proprio di sì Ok Perfettico Andiamo a parlare Con Hammerlock E vediamo Che cazzo ci dice Opla Io sto prendendo tutto Eh Un'uscita mai Signora Hammerlock Signo Che cazzo è Sta roba Non ce l'ho Eh Hammerlock Dove cazzo è finito Eccolo qui Gage Cosa Parola mia Winnie Esci Esci dalla mia Cacciatore Cosa diavolo è successo a Wainwright Eravamo alla location Quando dei seguaci pazzi Ci hanno attaccati Andrà tutto bene Credo Grazie al cielo Eri lì con lui Ecco Si sta risvegliando Winnie Stai bene Speriamo che ne valga la pena Questo shotgun Scusate Ma a questo punto Voglio vedere Cazzo è una vita Che lo sto cercando Uno shotgun Allora fammi vedere Dov'è Non c'è Non lo vedo Non me l'ha dato Sarà oggetto missione Ora la situazione Sembra sotto controllo Grazie a Gage E al cacciatore della cripta Possiamo ricominciare E sono sicuro Che d'ora in poi Andrà tutto a gonfie vele Illustre ospite Un attico Qua stavolta me l'ha dato 238 51 per 9 51 per 9 52 per Oh finalmente Ditemi che non è una merdata Per piacere E vediamo un po' come va Ok Uno shotgun Oddio Che bello Sono contento Una missiono Allora vediamo Allora vediamo Prima di tutto Qual è questa Perché io Dopo quando si prende Quella secondaria Questo Mostruomo Me lo ricorderò Dai me lo ricorderò Il giovane sposino Non è ancora fuori Pericolo Temo Ha portato con sé Un oggetto Estraneo Dovresti cercare Di rimuovere Quell'anello Dal suo dito Senza allarmare La coppietta Si intende Cosa ci facevi Lì fuori Non farti venire Un embolo Alistair Io e il cacciatore Abbiamo incontrato Un gruppo di teppisti Intonacati E parecchio maleducati E abbiamo dato loro Una bella lezione Di buone maniere Niente di cui preoccuparsi Parla con voi Ok Questa qui la lascio Lì Però di sopra Ci sono delle quest Che vorrei andare a vedere Allora Vediamo un po' Una qua Una là Ce ne è Salve signora Aiutami a mixare L'oscurità Mi chiamano DJ Midnight Gage mi ha assunto Per mixare Nefaste nenie E malevole melodie Nel nome dell'amore Ma i miei sample Sono stanti Putridi Insopportabili Me ne servono di nuovi Ti va di registrare Qualche suono sinistro Per me Nessun problema Suonavo il piano Un tempo Ero piuttosto brava Cosa carina Così comincia Il nostro oscuro Viaggio Alla ricerca Di suoni Sinistri Prendi il registratore Echo Collega di Nequizie Ok Va bene ragazzi Direi che ci possiamo Anche salutare qui Per questo video è tutto Vi invito come solito A lasciare un like E commentare se vi piace La serie Di farmi appunto Sapere cosa ne pensate E per il momento Vi do un saluto Da Shiva Ciao 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 Grazie.